Scusate, mi banderà l'anticitto, gli staffer Io in teoria adesso lo scaffoldo, di conseguenza Aspetta che riccio, come sto ricciando male Senza cacciato, da gioco per il combattimento sospetto dell'anticitto Piccola nota, sconsiglio a tutti di chittare, non fatelo, solo per dimostrare come troverebbero le vape lights Un topo di massi sospetto No, nessuno sta verso l'anticitto Impressiono Clip Cosa 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 Scenzi Cosa Cosa Pernata Cosa 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 Dove l'hai presa la vape light? Ma l'hai rinominata almeno spero Se ti avessi visto direttamente dal nome Tu potevo bannare perché è un nome generico Di una vape light Cioè sempre così Senti ho fatto un botto di screen Cioè uno con la vape light Uno con la vape light Uno con la vape light Uno con l'autoclicker light E uno con Uno con la vape L'autoclicker c'è Però digerlo non me lo aspettavo direggigit sintetica Avenge Che cazzo ne so Oddio Dio Cioèsti Giang Ma ti chiami? Gian 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 Gių Giò Giò L'uomo Che cazzo di nome è? Gian Gian Giò L'uomo Vabbè Il bello è che Quando sono qui La maggior parte delle persone E c'è l'oppy autoclicker E sinceramente per uno che finalmente Mi aveva mai avuto la saga vape L'oppy autoclicker ci sono rimasto veramente di merda Grazie a tutti